Finalmente si ricomincia, di motivi ne ho tanti, anche troppi. Vogliamo essere una scintilla, vogliamo essere protagonisti e bisogna essere dinamite. Nel momento in cui decido, esposo una causa, io sono un grandissimo professionista e oggi ribadisco di essere il primo tifoso dell'Inter. Educatori importanti o maturi che riescono anche in alcune situazioni a gestire, anche in situazioni difficili. A chi chiediamo? A Nicolo Varella che l'abbiamo preso dal Cagliari? A Sensi che l'abbiamo preso dal Sassuolo? Cerca di trovare una giocata individuale, dai e vai, e poi il tiro e poi il gol. Incredibile, appena entrato Ansu Patin. L'Avito dice che basta così, finisce il nostro cammino in Champions League. Sì, e questo oggi l'abbiamo pagato, anche perché è una partita da non ritorno. Ma mi dispiace, mi dispiace per le tante ragazze perché è andato veramente tutto. Ma lo stanno parlando dal primo giorno. Se hai giocato in Celiai, lì puoi dare spazio, ma se non Celiai come fai a dare lo spazio? Questo è che mi viene da ridere a me quando sento queste cazzate. Il secondo comunque è il primo dei perdenti. Poi vado a vedere, noi giochiamo ogni tre giorni, poi magari vado a vedere una partita che viene giocata dopo cinque giorni di riposo, di un po'. Cioè, come? Giocano prima di noi e poi giocano dopo. Noi giochiamo a Roma a partite importanti e qualche domanda me la faccio. Il problema è che me la faccio solo io, forse. Ce lo gustiamo noi, io e i calciatori, con tutto rispetto per gli altri, ma ce lo gustiamo noi che lavoriamo da piano alla piantina. Disappointment, etched on the face of Ashley Young. As you see the UEFA presence Alexander separate, making his way to the stage on the pitch. Forzinga, rival la crossa in area di rigore! Il colpo di testa di D'Ambrosio per il 4-3. Incredibile a San Siro, clamoroso. e fa festa la tribuna nera-azzurra. In 180 minuti con lo Schalke, due partite dominate, non siamo stati capaci a fare un gol. Questo ha delle idee libere, perché il portiere Lolo, se l'andata che è ritorno, è stato migliore in campo. Questo ha delle idee libere. Qui, l'Inter torna a battere la Juve dopo oltre 4 anni e spedisce i bianconeri a meno 7, rafforzando le proprie ambizioni Scudetto. Si fa molto in salita, la strada invece per la squadra di Andrea Pirlo. Sono contento anche per la soddisfazione che abbiamo regalato ai nostri tifosi, che oggi ci hanno fatto un'accoglienza sicuramente da brividi e che ci hanno messo una pressione che per fortuna è stata una pressione positiva. Quindi dedichiamo a loro questa vittoria, sappiamo quanto ci tenevano. Darmian ha una prateria in aria, Darmian controlla, Darmian! Ancora lui! La rete di Darmian che sblocca il punteggio! 1-0 Inter, ancora Darmian con Lukaku che va a ringraziare Sánchez. Cala il sipario, è 1-1 tra Sassuola e Atalanta, il risultato che consegna lo scudetto matematico all'Inter. L'identità è di Amor, di Amor! La capolista se neva! La capolista se neva! Dio Conte con la tuta per la seconda volta. Viene consegnato dopo la medaglia, è pronto! Andanovic, l'Inter, campione d'Italia 2020-2021! Fuochi d'artificio e festa a San Siro! Champagne e felicità dell'Azzurra! Ci sono stati anche momenti dove comunque ti vengono dei dubbi e forse dubiti anche su te stesso, però è cosa stata veramente forte a superare tutto e tutti. Andare avanti alla fine è una dimostrazione che comunque siamo stati tutti bravi e anche il sottoscritto. Grazie mille amici, grazie!